signore e signori ecco a voi Michele che tenta di fare strike ma ma riproviamo con il secondo tiro vai Michi grande Michi saluta Michi ottimo dai Paco facci vedere chi sei grazie 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 grande Paco la squadra mi sembra ti sembra vai claudia 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 grande ua claudia è bello dimmi si può fare niente la telecamera un'abilità assoluta ma claudia è talefatti proprio cari in der a chi tocca oi a chi tocca no dai leva leva beh 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 sono tre si lisa sono tre ma guardate la vedete che bu mi chia capito ma chi tocca marco saluta non ho capito diciamo che mi sto mi sto leggermente stancando